Un nuovo spettacolare cratere da impatto. Le immagini della CanText Camera mostrano un possibile nuovo cratere da impatto che potrebbe essersi formato in questo luogo tra luglio 2010 e maggio 2012, ed adesso un'immagine ripresa da iRise fornisce più dettagli di questo evento. La nostra immagine mostra una grande zona di impatto con raggi radiali e materiali secondari che sono stati gettati intorno a un cratere di 30 metri di diametro e indica che una grande esplosione espulse detriti fino ad una distanza di 15 km. Dato che il terreno dove si è formato il cratere è coperto di polvere, nella immagine ha colori enfatizzati a causa della assenza di polvere rossa stra il cratere sembra di colore blu. Esaminando la distribuzione del materiale eliettato attorno al cratere, gli scienziati possono sapere più sull'evento di impatto.